Buongiorno a tutti, intanto grazie per essere a corsi così numerosi, è quasi un'emozione moderare un convegno in questa cornice straordinaria di questo teatro storico. Io sono Sergio Leschinski e sono uno degli ultimi dei moicani, degli autori della storia Siamo Noi, il programma di Giovanni Minoli che molti di voi conosceranno. Oggi mi hanno chiamato per moderare questo dibattito su questa pubblicazione dal titolo molto significativo Meridionali e Resistenza e il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte. Naturalmente meglio di me potranno spendersi per questo contributo straordinario che molti giovani uomini, ragazzi direi, provenienti dalle regioni meridionali hanno dato al contributo per la liberazione dal nazifascismo in Italia e in Piemonte in particolare. Intanto vorrei presentarvi i nostri ospiti, i relatori, le istituzioni presenti, a cominciare dalla vicepresidente del Senato, la senatrice Fedeli che è qui con noi è stata particolarmente lodevole perché ha dovuto subire un piccolo intervento dopo una disavventura dovuta ai San Pietrini qui fuori. Poi vorrei continuare presentando tutti i vicepresidenti dei consigli regionali delle regioni del Sud. Comincerei dalla mia sinistra il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Vincenzo Santo Chirico, il vicepresidente del Consiglio regionale Michele Cossa della Sardegna, chiedo scusa, mi fanno notare. E poi tra l'altro c'è anche qui il professor Claudio della Valle che è il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte. Il presidente del Consiglio regionale della Campania Paolo Romano. Il presidente del Consiglio regionale della Puglia Onofrio in Trona. E come vi dicevo, questa è una pubblicazione molto particolare e davvero è uno di quegli esempi secondo me, per me che faccio televisione ma per molti di voi che siete appartenenti a istituzioni scientifiche, a istituzioni, ad associazioni regionali, mi preme molto sottolineare l'importanza di quello che vuol dire in questo caso il servizio pubblico. Il servizio pubblico non è solamente dare dei servizi, diciamo, così amministrativi. Il servizio pubblico è creare comunità e crearla come l'hanno creata tanti anni fa migliaia di giovani che a costo della vita si sono spesi per creare un nuovo paese. Qui a Torino abbiamo avuto le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, come in tutta Italia a Torino è stato particolarmente sentito. Ecco, questo libro che in qualche modo testimonia con cifre circa 7.000 uomini parteciparono al movimento di liberazione in Piemonte, molti di questi erano militari tagliati fuori dalla linea gotica, tagliati fuori da un possibile ritorno a casa. E ecco, adesso io vorrei chiamare intanto le autorità della città e della regione e naturalmente dopo un breve saluto, diciamo, dall'artefice di questo convegno che è il presidente del Comitato regionale per l'affermazione dei valori della resistenza e della Costituzione, Roberto Placido.